Amiche belle, amici belli, non so, è una giornata strana, non so, da voi. E qui è strano, strano veder camminare un piccione su una ringhiera, poi vederlo scendere piano piano agli scalini della casa dei dilimpettai, vedere Minou che gioca col sossetto, ascoltare questi rumoracci, ascoltare i trattori, i cinguetti, pare strano, pare proprio strano che ci siano ancora, che appaia un giorno come un altro, ma quale giorno è come un altro? Ma quale? Nessuno è un giorno come un altro, perché per ogni persona, in ogni casa, famiglia, per ogni persona, i momenti sono diversi, momenti di gioia, momenti di isperazione, di preoccupazione, di dolori, di ansia, e ce ne procurano tante qua di ansia. Allora, cosa facciamo? Ci beviamo insieme un caffettino, perché dove non si può far nulla, se non siamo in grado di poter risolvere le questioni, c'è poco da fare, qualche preghierina in più, magari, e cerchiamo di fare cose belle, cose buone, di essere gentili, che c'è una cosa buona e giusta. Ecco la Minou secca, è carina, con la zampina tiene l'ossetto, non ci gioca tutti i giorni con l'ossetto, è carina. Allora, sorseggio un po' di caffè, e vi sfoglio questo, più maglia, che corrisponderebbe al bimestre marzo-aprile. Oh, siamo avanti, eh! E ci sono cose, ma sì, ci sono cose, ci sono cose che potremmo replicare pari pari, cose dove potremmo mettere le mani, eh, Maria Vittoria? E ci sono bordi che ci piacciono, magari, o bordi che non ci piacciono per niente, o che sono stati fatti un po' maluccia, lì ci si rincuorre, diciamo, ora non capita solo a me. Io devo risfare il pezzo di Camilla, ho fatto tutto ieri sera, ho chiuso il dietro, ma non mi convince una cosa, quindi oggi risfarò e rifarò, e pazienza. Pazienza. Allora, caffettino e lo sorseggio. L'ho messo in una tazzina dell'amicizia, questa mi è stata regalata Natale, ci sono le peonie, guardate che belle le peonie. Poi noi che abbiamo così vicino il centro botanico Mutant, che è di una meraviglia, quante volte ci sono stata e quante volte ci vuole tornare, ma l'apartheid, molte cose, molte persone non le possono fare, non le potranno fare. Chissà in quanti si stanno svegliando stamattina, anche senza essersi lavati la faccia, o magari con l'acqua calda, che schifo lavarsi la faccia con l'acqua calda. Allora, da ora ve lo sfoglio. Ma intanto l'ho acquistato, sapete perché? Perché me l'ha proposto con fare così carino e premuroso l'edicolante dove vado a fare le mie stante, che l'avrei preso forse anche se... No, no, non lo so, no. L'ho visto e già ho detto, oh, va, ok. Ci sono cose con le quali possiamo chiacchierare. Ma poi è stata veramente molto carina. Non è che ha spinto la vendita. Perché non trovavamo un numero che invece in edicola dovrebbe arrivare. Per fortuna non è arrivato perché l'ho visto in anteprima online ed era veramente brutto. Non ripeto cosa stavo cercando. E allora, sì, è vero, quella era un'altra cosa, però c'è questo. Lo propongo prima lei, l'ha tutto fatto bene. Anche perché non le mandano molte di copie dalle nostre parti su questi argomenti. Mi mandano molti di uncinetto da quello tradizionale. Quelle riviste che poi sono delle repliche di altri servizi, quelle che hanno sempre un po' il gadget, tipo l'uncinetto, il gomitoletto di filo bianco, classico. Oh, mica mi fa schifo, per carità. È che non ci vedo più. Sapete, avevo cominciato a mettere il miele nel caffè. E non era male. Ma oggi ho detto, via, ci do. È proprio una bella botta con lo zucchero. Tre cucchiaini. E ci togliamo la paura. Oh, si sta bene fuori. L'aria comincia ad essere dolce, ma è molto più fresco di ieri. Ieri, a quest'ora, mi sarei messa a maniche forte. Oggi anche no. Sto bene con le mie calze termiche. C'è un corredo meraviglioso. Sto bene con i miei golfettini. Volevo mettermi la tutta. Ho detto, no, no. Mi metto queste belle cosine che abbiamo fatto areggiare. Abbiamo messo un po' il sole sul rovescio. Aspetta che il sole è una caricida molto potente. E quindi, ecco, me le sono rinfrescate e me le sono rimesse. Allora, una cosa brutta in fondo, ma non ve la faccio vedere. Poi c'è una pubblicità che riguarda il prossimo numero che dovrebbe uscire il 15 aprile. è questo. Allora, questi così lunghi, quasi, un po' più lungo, eh. Il golf di Kashmir che avrei dovuto disfare, che mi è stato regalato. E grosso, pesante, ci faccio un capotto. Che invece poi ho detto, ma chi me lo fa fare? Tutto bello, tutto treccioluto. Ho arrotolo le maniche e 800 taglie più della mia. È un bellissimo ceveste. Lo metto sia con i pantaloni di lino e con i jeans. Ecco, i calzoni di velluto, mi piace. Cosa vediamo qua? Allora, è un motivo traforato che si sviluppa in verticale. Spalla ascesa, manica abbondante, che si rimborsa, si diceva una volta. Sopra la mano, sopra il polsino. E' un bel punto traforato, ma noi lo potremmo realizzare anche con la finta costa inglese. Non finta, scusatemi, la mezza maglia inglese, la mezza costa inglese. E perché no? Eh sì, abbiamo un sacco di bei filati. Dopo ve li vado a riprendere. Metto in carica il telefono, ma non ho preso la prolunga. Quindi ci facciamo abbastare la carica che ha. Poi, per farvi vedere da vicino i filati e ragionarci insieme, metto il caricabatteria. Allora, ho deciso che se trovo questo numero lo regalo a Camilla. Glielo metto da parte per il suo compleanno. Poi mamma le vuole fare una cosa ad uncinetto e ve lo dirò. Ma siccome qua passano troppe persone che conosco, allora non posso svelare tutte le mie cose. Però questo lo dico, amen. Mi piacciono queste cose. Allora, questo è un numero dedicato molto a chi lavora in piano a fare i dritti. In piano a fare i dritti vuol dire fare i vari pezzi e assemblarli cucendoli. Eccoci. Però mi sembra di aver visto anche una cosa non fatta, fatta con i circolari in tondo. Allora, all'inizio abbiamo tutti i servizi. Qua è una rivista dedicata ai filati di Katia. E ne ho assaggiati abbastanza e quelli che ho assaggiato di Katia mi piacciono. Poi ho scoperto cose perché, vabbè, ci sono rimasta un po', un po' così, pazienza. Allora, poi qua parlano della maglia maschile e, vabbè, mi sembra ancora come se... Però io tutte queste cose riguardo alle donne che sanno trapanare non le ho viste, eh. Comunque sì, è una cosa bella. Io vi ho già raccontato tanti vocali fa che durante un mio ricovero due settimane e tacci loro io mi ero fatta portare dalle mie ragasse del salone una pezza, i fili, gli schemini e ogni giorno ricamavo una cosa, quello che poi è diventato un quadro che ho sbolognato, ho regalato. E il primario del reparto mi veniva a salutare, a parte per forza dove ho passato tutti i giorni, e poi si intratteneva a chiacchierare perché anche lui amava ricamare. Io stavo facendo ricami a punto croce. E quindi è una cosa bella, ma se abbiamo le mani ed un cervello, cioè non è che serve, volevo fare la rima, eh, non è che serve proprio quello. Basta un po' di gusto, basta che ci appartenga, che uno si dedichi a qualcosa che lo fa star bene. Noi abbiamo cresciuto l'ultimo fratello, come si deve, noi femmine, l'ultimo è un gemello con una femmina, perché i primi due maschi è proprio una tragedia, una tragedia con tre G, come si dice a Roma. Io questo signore lo devo fermare perché arriva troppo sgargiolino qui. Lui non ha capito che sono cani, gatti e persone che stanziano a volte nella strada. E glielo devo andare a dire perché è la seconda volta che parte, entra senza proprio preoccuparsi, eh. Allora, allora mio fratello, il piccolo, noi gli abbiamo insegnato che ci si apparecchia, si sparecchia, ci si fa il letto, si sistemano le proprie cose. Poi l'ha imparato a stirare, ha imparato a rammendare, ha imparato a ricamare, ha imparato un po' a cucinare, a cucinare sì, avete visto che belle cose che si cuce? Ve ne devo, adesso poi faccio un post e ve lo faccio vedere, che bella cosa che si è cucito da solo, lui si è fatto la chiusura, mia madre ha tricottato, lui sa fare bene l'uncinetto, lavora la pelle, lavora il metallo, fa di tutto, mio fratello, oh, si sa badare a casa, si sa badare anche ai figlioli perché lui i nipoti si è retenuti parecchio, così che bisogna essere, bisogna sempre fare un po' di tutto. Poi è un po' più bravo a fare una cosa, io, non datemi un trappano male a me che vi faccio le voraggi, ma mia sorella Elaria dovesse vedere come pitta le pareti, come se le prepara, come le decora, come una trappa, insomma, si deve imparare a fare un po' di tutto, anche perché è bello collegare il cervello con le azioni delle proprie mani. Oggi non ho messo neanche anelli. E quindi, insomma, c'è questo servizio dedicato a questo signore, noi abbiamo Max, che è così tanto bravo, abbiamo anche Luca Sforza, poi non ne conosco altri, diciamo, in questo momento, non ho confidenza con altre presenze maschili che si divertono a fare maglioncinetto o altre cose. Allora, abbiamo questo golf. Adesso io non sono andata a vedere le caratteristiche di questo filato, ma lo vediamo che è un po' pelliccioso. Avete visto che l'ha concluso il golfino puffoso la nostra gloria? E allora, io ve lo voglio fare, solo che abbiamo due gomito di quella pelliccetta, mi sa come la fregherà Camilla. Bisogna vedere chi è più lesto, ecco. Perché mi piace il golfino, ho fatto a righe, mi piace il golfino, ho fatto così, mi piace il ceveste. Allora, con quel filato pelliccioso delle Lollo, allora, perché vi parlo delle Lollo? Perché avete visto che io sono piena di cose delle Lollo. Ecco, perché ci piacciono, perché riusciamo a fare un bel assortimento contenendo anche la spesa. Ecco, abbiamo tanta varietà, abbiamo qualità differenti e noi ce le scegliamo, ce le mescoliamo. Ci sono filati che piacciono tanto a Camilla, infatti spariscono subito, ma mica perché non piacciono a me, perché lei ha deciso così. No, in questo ordine veramente ci ha messo del suo, si è proprio scelta, i filati per sé. E adesso che è partita per una breve vacanzina dalle cugine, dalle zie, insomma, è andata al nord, mi chiedeva stamattina, ma insomma, io volevo fare una cosa, ha già fatto le cose, ha fatto delle cose, non posso svelare, e voleva portarsi fuori via del materiale, perché non si sa mai magari, però non ho il tempo, perché devo fare tante cose. In effetti, insomma, quando è là, fra una parente e l'altra, a fare una gittina, una cosina, giustamente, ecco, non è che saranno col sedere spiantato da una parte e basta, le mie ragasce. E allora voleva portarsi del materiale per fare una cosina alla Benedetta, quella bambina che ho ospitato con la sua mamma, poche settimane fa, un paio, non so, mi passa il tempo che non si capisce più, è stranamente denso in questo periodo il tempo. e allora voleva portarsi via del materiale, ma era indecisa fra una qualità, fra un'altra, fra i colori, ho detto, scusami, mica vai a piedi, c'è neanche lo zaino in spalla, metti in macchina quello che ti serve, se non ti serve, amen. E quindi vedremo congere, perché vuole fare, vuole fare. E quindi torniamo alla pelliccetta. Adesso non so se le caratteristiche sono proprio le stesse, però questo modello, che è, non mi ricordo come si chiama, è intarsi, quindi io in tessitura le chiamo le trame allacciate, quindi non c'è un trasporto di filato sul rovescio, visto l'estensione della macchia colorata, ma che è brutto, diciamo presenza, a parte che qui è fatto un po' malino, e allora quindi nel punto di cambio del colore si incrociano i filati e quindi si prosegue con un unico filato, anche perché avremo un dispendio di energie. E quindi un modello così, con i filati delle Lollo, potremmo vedere quella bella pelliccetta, ma così, vediamo un po' con cosa lo potremmo fare, ma a me piace tantissimo il Gheo, così dolce, delicato, se dobbiamo raggiungere un certo calibro, sappiamo che possiamo abbinare, anche perché ci sono dei colori abbastanza simili, ma poi si sostengono anche con un piccolo scarto, abbiamo lo Scozia 1, abbiamo anche il Queen, che è uno dei miei preferiti, quindi abbiamo dei filati sottili, e possiamo abbinare alle pelliccette e realizzare un golf di questo, con questa fattezza e leggerezza. È un golf, allora a me non è che piaccia molto il golf infilato parzialmente nei calzoni o nella gonna, mi sembra come mio fratello Luca quando era piccolo, sbulinato si dice a spezza, è un po' sbulinato con le cose dentro o fuori, e quindi non lo so, però lui mi piace, che potrebbe diventare anche un bell'abito lungo, oppure sopra il ginocchio. Negli anni 80, io mi ricordo mia madre, me ne fece uno con queste maniche, i detti anche un po' a pipistrello, a parte che quando tiri sul braccio ti trovi con il sedere fuori, però mi ricordo che mi piaceva assai, era divertente, che poi lo possiamo usare anche sopra un calzone, sopra un leggings. Allora, l'argomento è il cambio colore, l'uso del colore, varie tecniche, no, non vi posso far vedere, vediamo, aspettate, vabbè, ci sono vari punti, mannaggia, scusatemi, vediamo, vediamo se arriviamo, allora, c'è un bel golfettone, questo mi piace, mi piace questo motivo a barrettine, che io a telaio lo realizzo spesso e volentieri, e mi piace, scusatemi, in questa rivista che si propongono subito all'occhio anche taglie varie ed eventuali, io ho avuto anche 20 chili di più, e so cosa vuol dire, dover vedere solo cose per magre, che poi non mi sembravo tanto cicciotta, però 20 chili in più sono 20 chili in più, insomma, vabbè, e quindi trovo veramente molto carino, utilizzarlo come esempio, ma che è, e mi piace, sono diventate molto attenti ai particolari, guardate la scarpina, non so se si vede, io non so cosa vedete voi, perché non vedo dove inquadro, allora, la scarpina, che riprende i colori del golfino, ma dici, capirai, ma non è sempre così, con certe edizioni, ho visto di quelle sconclusi, 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 non so come dirlo, allora, questo è il retro di questo golfettone, e lo trovo carino, mi piace, lo metteresti? Sì, lo metterei, a voglia che lo metterei, con dei calzoni che proseguono l'ultimo colore, così non ci spezziamo la figura, impariamo a ricordarcile queste cose qua, ecco, con un calzone di questo colore, l'avrei fatto, quindi pensate che bello slancio di gambe, e, bello, sì, che poi cosa costa, scusatemi, dei pendichiari, te li tingi, se proprio non li trovi, pandandi qua e pandandi là, e, beh, comunque, la disposizione dei colori, poi diventa anche personale, ognuno se la combina, secondo del filato che sceglie, se replicarlo con quello proposto dalla rivista, oppure con altri, qui abbiamo, a parte la fascetta, guardate com'è carina la fascetta, noi siamo amanti delle fascette, Camilla è diventata di un bravo, mi piace nelle proporzioni, mi piace come regola la sua tensione, mi piace come mette insieme i filati, ogni scarrafone è bella la mamma sua, ma non è vero, sono anche abbastanza severa a riguardo, ma quando fa una cosa fatta bene, la mamma glielo dice, allora, mi piace anche la camicetta, ah, quanto mi piace questa camicetta, tanto, io amo le camicette, allora, abbiamo gilet, che lo vediamo di qua, eccolo qui, abbiamo un gilet, che ha un accenno di manica, poi si vedrà nello schema, che io non vi posso fare vedere, ecco, abbiamo due colori, che trovo veramente belli, mi piace, poi, mi piace lo scollo, mi piace lo scollo a vu, poi, questo è un capo, che può essere tanto maschile, quanto femminile, è un capo sportivo, sportivo, carino, poi, se volete le maniche lunghe, tirate giù dritto, e vai, allora, aspettate, no, questo non ha la spalla, la mezza, no, è solo il bordo, che crea l'effetto manichina, va bene, comunque, insomma, se siete brave, tirate giù le maniche, allora, poi abbiamo questo golf, un po' oversize, sto imparando, allora, a parte il colore sbattimento, che vabbè, lei sta carina, perché ha questo incarnato, ha questi capelli, però, insomma, a chi sta bene il suo colore, poverina, guarda che c'ha le caosette, c'ha le caosette, ma i calzoni mi sono divertenti, però li amo un po' più larghi, io li amo più larghi, così, contrasta un po' con i fianchetti, e le ciccette laterali, che ce le ho, ce le ho sempre avute, e, anche questo è un golf classico, carino, trovo carino il motivo, sia traforato, che ha barrette orizzontali, semplice, adatto anche a chi prende i ferri in mano, per la prima volta, è molto femminile, lo scollo ampio, leggermente avuto, qua poi abbiamo le asimmetrie, ecco, queste non mi piacciono, le asimmetrie, a ne metciavano, questo genere di asimmetrie, perché, sgrazia la persona, così come ho detto tante volte, che non mi piace, ad esempio, soprattutto sulla schiena, il motivo isolato centrale, come un torsion, o quando c'è un motivo centrale, i traforati, già mi fanno meno impressione, però l'orari preferisco, o alti, o bassi, o che prendano tutta la schiena, i motivi isolati, centrati, nella schiena, mi fa brutto, soprattutto se sono delle trecce, abbastanza, trecciolute, perché mi va a ricordare, la spina dorsale, lo trovo brutto, 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 non mi piace, proprio mi fa un senso, allora, ma, se ci piace il motivo, prendiamo, un riferimento, andiamo dritta, e ce lo facciamo alto, quanto ci pare, basso, come un bordo, alto, meno della metà, abbastanza meno, così mettiamo un po' in evidenza, il punto vita, se non ce l'abbiamo, si crea, io lo trovo molto carino, anche nelle maniche, quindi, modificarlo, non è un problema, insomma, questa cosa della riga in diagonale, ma piace no, carino il colletto, così lo trovo carino, sì, anche perché non sta attaccato, e io, io ho la zip, ho un mezzo collo oggi, ma con la zip, quindi, respiro, respiro, la menopausa, come ci cambia, signore, la menopausa, allora, poi che ne abbiamo, abbiamo, questo capo, che presenta, un filato, con, inclusioni, allora, bisognerebbe vedere, che scarto c'è, con il rose, che io amo, avete visto Max, che bel golf, che si è fatto, ecco, a volte uno pensa, che certi filati, possano, non essere maschili, io nella mia vita, ho incontrato, un moere lana, meraviglioso, peloso, ma con una distribuzione, della peluria, e con una torsione, particolare al cuore, che dà veramente, un capo, anche maschile, per niente lezioso, leggero e caldo, non faccio pubblicità, per questioni mie personali, lo so, sono una tigna, e, quindi, il rose, eventualmente, potrebbe andare bene, ma vado a verificare, poi, anche, con i nuovi filati, perché abbiamo, il silio, che è da vedere, adesso, c'è uno starnuto, in arrivo, ha una, lavorazione diagonale, non ho, non ho visto, se è, simmetrica, davanti, quindi, se cambia, l'inclinazione, nei due, nei due pezzi, carino, la cosa che c'è sotto, mi piace, meno la cintura, perché anche lì, non ha meno, le cose strette, in vita, no, io, mi basta gli spilli, mi piaccio, questo bordo, bene, anche il colore, sta bene alla ragazza, non sta bene a tutte, questo strano, verzo, verzo, ma che ci importa, noi del colore, lo facciamo come ci pare, però, prendiamo atto, che è vero, il rose, magari, nasconderebbe un po', la lavorazione inclinata, ma ne abbiamo altri, di filati, un po', operati, lavorati, cos'è la ganta, sta lì, che sembra, poverina, sembra, ha un fiocco, come è brutta questa, ma cosa ne pensate, di questa immagine, è brutta, poi abbiamo, eccola qua, un golfino, quasi sportivo, alle donne, le tasche davanti, all'altezza zizze, sono un po' rischiose, perché, a parte il catturare, l'attenzione, su quelle parti, io quando, la tavola bambina, che è sempre abbastanza, vestita comoda, perché, però, ero veramente una mucca, in quel periodo, mi chiamavano, oh mamma mia, mi chiamavano, aspettate, no Carmen Russo, allora, in reparto, mi chiamavano, la mucca, e poi l'altra, com'è che era, che mi chiamavano, vabbè, col nome di un'attrice, non mi ricordo, ma veramente, era una roba, ma la settima, era arrivata, contate una seconda scarsa, una settima, sapevo dove metterle, quindi, una cosa fastidiosa, era non poter camminare, dal dolore, poi tutti che ti guardano, anche se cerchi di mettere, cose blande, larghe, tutti che ti guardano, ecco, una cosa odiosa, odiosa, proprio odiosa, a meno per quel che mi riguarda, e quindi, insomma, non lo trovo, non mi piacciono, le tasche messe così, proprio sinceramente, anche no, una già, vabbè, magari messa un po' alta, mi viene in mente mio padre, che vuole sempre taschini, le camicie per le sigarette, quindi, mi farebbe già ridere, taschine basse, perché io le uso le tasche, oh, ho un cardigan, falconeri, adesso, con da una parte, non vi dico cosa, e dall'altro, il sacchettino per l'emergenza di menù, è un fazzoletto, ce l'ho sempre appresso, perché non sono riuscita a mettere, il barilotto, su, il barilotto portasachetti, sul nuovo guinzaglio, mi è duro a staccarsi, quindi devo viaggiare sempre, con le scorte appresso, allora, è un filato classico, notiamo, è un punto traforato, che crea un po' l'effetto spiga, ci piace, ha un'apertura quasi serafino, abbastanza lunghetta, la possiamo fare dove c'è pare, ecco, anche più corta, sinceramente, i bottoni costano, beh, a parte che non è bella scorta, la manica, è una manichina classica, ma sì, ad esempio, con le lollo, con cosa, a vederlo così, vediamo un po', con lo scozia 2, con il, ah, con il confetto, il confetto dovrebbe andare bene, e, e poi bisogna vedere anche i filati nuovi, perché poi, questo stile di golf, lo possiamo realizzare, sia con filati in lana, che con filati in misto, lana e seta, e poi, avete visto che, ci stanno preparando le vele, io c'ho un assaggino, eh, quello è stato il mio cadeau, ah, lo so, allora, qui c'è un gilet, che mi piace tantissimo, quando sono andata a vedere lo schema, non capivo, non c'ero mica arrivata, perché non avevo letto, non avevo visto, che dietro, ha la gala più lunga, ha la meccasa, è brutto, più lungo dietro così, sembra un gonellone, mi piacciono alcuni, che sono un po' più lunghi dietro, ma quando non c'è molto scarto, altrimenti mi fa venire in mente, il grillo parlante, allora, qui abbiamo un autorigante, ce la possiamo creare anche da sola, eh, da soli questo effetto, vi ricordate i, i cofanetti con i coriandoli, ecco, prendiamo un colore di fondo, cambiamoci, a ogni tot, eh, un, un coriandolo, che poi se ci avanzano, ci facciamo cose, ed eccolo qua, lui mi piace tantissimo, peccato che, che crei un po' questo effetto, ma a chi ce ne importa, infatti io questo l'ho detto a mia madre, per il mio fratello, a me piace tanto, perché mi piace, mi piace indossare l'azzurro con i toni caldi, e, e quindi sotto ci potremmo mettere dei bei calzoni, ecco, consideriamo l'abbigliamento che abbiamo, e, l'ideale sarebbe di partire, ad esempio, con un colore di calzone che già, o gonna, insomma, che, che abbiamo già, ecco, in modo sempre da creare il meno stacco possibile, mi piace, mi piace, mi piace questo bordo così, mi piace questo punto ripreso, è anche maschile, infatti ho pensato a mio fratello, ah sì, quello bello, ma non ce l'ho fratelli brutti io, allora, poi, cosa abbiamo qua? Non capisco se è ancora a secondi oppure no, allora, qui abbiamo un golfino molto leggero, potrebbe essere un, era un capo o a due, vedere la maglia così piccola, direi a uno, eh, qui abbiamo delle costine, e abbiamo un effetto degradante, come lo otteniamo? Ah, avete visto i confetti? Perfetti! Allora, prendersi un cofanetto di confetti, prendersi, eh, di confetti, ho detto, sono suonata, di, di coriandoli, allora, prendersi un cofanetto di coriandoli, nelle gradazioni desiderate, prendersi a parte sfuso, il soffio, eh, che ci garberebbe avere nella parte alta, e crearci la gradazione, perfetta, questa che tipo di costa potrà essere mai, non lo so, ma potrebbe essere una semplice costa 1-1, ma noi potremmo anche farci la nostra bella mezza costa inglese, adesso mi è presa in fissa, eh, il modello non l'avevo ancora visto, perché l'ho comprato ieri, questo giornale, e, e che ganza, ce l'avevo già in mente per la Federica, una roba così, però, ecco, farei il bordo basso, e poi il davanti e il dietro, tutto, a mezza costa inglese, è carino, questo forse l'hanno fatto, non lo so se hanno fatto quei circolari, però, ecco qui, un buon esempio di impiego, questo potrebbe anche essere un abitino, considerate che, per creare una svasatura, a volte sufficiente, alzare il calibro dei ferri, e magari inserire un capo in più, ecco, e quindi non ci avete da tribolare con gli aumenti, una blusa quasi al ginocchio, che poi in casa lo possiamo usare anche proprio come abitino, questa mi sa che è la batteria che le andà, allora, abbiamo visto tutto, mi sa di sì, bambine mie, oggi sono materna, mi sa che sì, no, forse no, 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 vediamo un po', no, se che abbiamo visto tutto, aspettate, allora, qui abbiamo poi un'altra serie di golfitudini, molto semplici, allora, questo è un golfino semplice, a teli, ui mamma, e che si può fare? Questo è un berretto semplice, che si può fare sia con i circolari, che con i ferri dritti, ecco, si fa un bel rettangolo, si va oltre l'altezza della testa, di almeno dieci centimetri, quando sentiamo la testa finire, senza badare alla sommità, andiamo su di dieci centimetri, infiliamo il filo, tiriamo, ricciamo, cucciamo, vai, hai fatto il berretto, poi ne parleremo, allora, lui è un bel golfettino, è semplicino, primo golf, sai fare la maglia dritta, la maglia rovescia, lanciati, scegli un bel filato, e buttati, qui cosa ci possiamo mettere? Ah, abbiamo il caos, abbiamo lo scozzo a due, dove possiamo aggiungere un soffio, dove possiamo aggiungere quello che ci pare, lui è celeste, lui è ruggine, celeste, serenità, positività, ce ne abbiamo bisogno, qui abbiamo un golfettone, ah, io sapete come lo farei? con il luxury, eh? Sì, lui si presta, adesso non so quanto possano corrispondere, come dimensione, ma lui mi piace, non lo farei così lungo, lo farei un po' più corto, con un bel bordo alto invece, e, verrebbero proprio belle queste, queste nocciolone, con il luxury, poi cosa abbiamo? Ah, bello, abbiamo Giovanni, Giovanni, con un bel berretto Giovanni, ecco, ma c'erano tutte vestite di jeans, lui è carino, è uno spolverino, carino, con cosa? Ah, abbiamo, abbiamo il gheo, abbiamo il momi, abbiamo il soffio, abbiamo, anche questo, il capo, lo possiamo assumare, aspettate, com'è che si chiama? Il trilli, e, ce ne possiamo prendere una vista, carino, il collo spezzato, che ricorda un po' l'effetto rever, una manica non troppo lunga, è carino, qui abbiamo un altro cardiganino, basichino, basichino, uno scollo appena accennato, la manica lunga, prime armi, perfetto, fai dritti, andiamo, grana di liso, l'amo tantissimo, è delicata, lui, così bello e dolce, lo scozia, vediamo un po', lo scozia, e poi, e poi, non me lo ricordo, colente e coi, altro gilettino semplice, ma che si, tira un po', tira un pochetto, ma che bello questo giallo, con cosa? Uh, questo non mi pare piccolissimo, ce ne abbiamo, dalle lollo un'infinità, abbiamo il caos, ad esempio, ma ce ne abbiamo, e poi ci devo ripensare, vediamo, aspettate che qua ci abbiamo, reparto, aiuto, reparto progetti, vediamo un po', ok, eh, lui mi piace, questo bicolore, in questo modo, vedete il calzone verde, svancia la figura, non l'aspettiamo, mi piace anche il fularino, poi quello dietro, è molto carino, eh, allora, eccolo qua, abbiamo un bel golfetto, che cambia colore, una bella manica, e, sarebbe da scuriosare, sì, ci sono delle coste legate, mi pare, ho il sole in faccia, non ci vedo, eh, qui abbiamo un golf sportivo, un sacco di bottoni, viola col viola, carino, questi pantaloni sono terribili, mi fanno venire in mente i pannoloni, eh, però può essere carino, come golfetto, è originale, l'uso del colore, poi diventa personale, eccolo qua, altro movimento, ma qui ci possiamo mettere l'acqua lungo, eh, ah, che carina la schiena, sì, abbiamo delle coste, tutte coste, sì, tutte coste, tutte coste, poi la maglia rasata, ma, ma hanno letto nel pensiero, io ancora tenta, avevo visto, maglia rasata, e poi il bordo, dietro vedete, abbiamo delle coste, e poi abbiamo una treccia sulla schiena, che non lo so, vabbè, una treccia, sulla spalla, in trecci vari, anche questo lo farei con l'accioli, ah, mi piace tanto, o che sì, 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 ma poi ne abbiamo, eh, da fare, lui è divertente, lui lo trovo molto carino, lui lo trovo veramente carino, mi piace questa ripresa, per questa, mi piacciono anche i calzoni, devo dire la verità, uh, che bella, è una tuta, come vedendo la camicia, non lo so, bello, mi piace, ecco, un po', un po', come è che lo chiamate, quando è così squadrato, voi che sapete, sembra un pochino più lungo indietro, ma non è detto, eh, lo trovo delizioso, lo trovo interessante, la manichina, non lo so, ha questo effetto, righine qua, costine, carino, sì, mi piace, è sportivo, io che uso molto i calzoni, mi piace quei calzoni, questa cosa qua, a parte che anche sopra i vestitini, abbiamo un cardigan, un cardigan con filati multicolor, ce ne abbiamo ancora nel confetto, eh, dei multicolor, poi possiamo giocare a momenti, eh, non sempre, anche con il soffio, quindi, abbiamo i coriandoli, ricordiamocelo, bene, basta, è finito, qui, abbiamo, sì, con suo fratello rinforzato, che brutta cosa, ed ecco fatto, ve l'ho raccontato, adesso mi vado a prendere il mio lavoro da disfare, mi metto qua, e mi metto a pregare, e mi metto a pregare, e non vado a prendere il mio lavoro, la chandruzione, è questa, la chandruzione, è la chandruzione, è questa, la chandruzione, ma andrò,